Bilancio coraggioso, non voteremo l'ultimo avviso di Fratelli d'Italia al Sindaco Rucco. Definita la data del voto per le regionali in Veneto, si va alle urne il 20 e 21 settembre. Rientro in classe, a settembre nuove modalità per veicolare i pasti nelle mense scolastiche. Va nel campo per falciare l'erba, ma trova una coltivazione di marijuana, la polizia sequestra 50 piantine. Incidente sul lavoro, operaio in fonderia colpito da liquido incandescente, rimane ustionato. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Vicenza, che apriamo come sempre con i dati relativi all'emergenza Covid-19, dati che arrivano dall'azienda a zero e che indicano un totale di 6 positivi in più rispetto all'ultima rilevazione. 3 a Padova, 2 a Rovigo e 1 domiciliato fuori Veneto, mentre sono arrivati a 1489 i soggetti in isolamento domiciliare. Abbiamo una donna italiana di 42 anni nata in Slovenia ed è positiva a Padova, un uomo italiano di 73 anni a Padova, un uomo di 17 anni, però il caso è in approfondimento, un uomo nigeriano di 55 anni a Padova, una donna italiana di 62 anni a Rovigo e un uomo italiano di 70 anni ancora a Rovigo. Per quanto riguarda i ricoveri, andiamo a vedere il totale dei ricoveri, che parla di un ricovero in meno in terapia non intensiva, rimane invariato, cioè a zero, sia il numero di ricoverati in terapia intensiva che il numero di decessi, cioè non ci sono stati decessi dall'ultima rilevazione. Ora ci occupiamo della politica vicentina, perché domani c'è un Consiglio Comunale fondamentale per il futuro della giunta di centro-destra, viene messo al voto il bilancio di assestamento, infatti Fratelli d'Italia minaccia di smarcarsi dalla maggioranza. Adesso è il Sindaco Rucco, a fronte delle proposte che abbiamo fatto noi, che deve decidere quale sarà il futuro di questa amministrazione e anche il suo futuro. Così parlò Sergio Berlato, ex coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Ex, sì, ma a Palazzo Trissino è sempre lui a capeggiare il gruppo dei consiglieri comunali targati FDI. È lui che parla, è lui che dirige l'orchestra. L'orchestra di un Titanic politico, se è vero che, se domani non verrà votato il bilancio di assestamento, la maggioranza di centro-destra rischia di affondare e dei sinistri scricchioli si sentono da tempo. È già da diverso tempo che lanciamo messaggi al Sindaco Rucco e all'intera maggioranza. Proprio così, Fratelli d'Italia con Sergio Berlato, oggi europarlamentare che da Bruxelles ogni tanto si affaccia a Palazzo Trissino, da tempo suona questa musica. Il problema è che domani la maggioranza di centro-destra rischia di colare a picco se non voterà compatta a favore del bilancio di assestamento e, guarda caso, Fratelli d'Italia minaccia di smarcarsi. Non voteremo un bilancio ragioneristico che dà l'impressione di non tenere in considerazione quanto è accaduto in questi mesi. In questi mesi c'è stata l'epidemia da coronavirus. Il governo non ha dato risposte convincenti, ma Fratelli d'Italia chiede che sia il comune di Vicenza, da solo, a trovare le risorse per aumentare un fondo di solidarietà, su cui già erano state stanziate grosse somme a favore delle imprese e delle famiglie. 1.150.000 che sono stati messi a sconto della Dari, 200.000 euro che sono stati impegnati sull'Imu e altre somme importanti, 800.000 euro disponibili, ma altre somme che sicuramente arriveranno e stanno arrivando che andranno appunto a sostenere le imprese e le famiglie in difficoltà. Oggi più che mai i cittadini hanno bisogno innanzitutto di risposte concrete, non di scontri di palazzo. Se cadesse la giunta mancherebbe una guida istituzionale a Vicenza e il naufragio politico rischierebbe di diventare un naufragio sociale. Forse per questo non tutti i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia andranno fino in fondo. Io mi aspetto che i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia di Vicenza antepongano il senso di responsabilità magari a qualche personalismo, perché senza dubbio è incomprensibile la minaccia, è incomprensibile che un deputato europeo decida di caricare su di sé il tema di una città che ognuno fa il suo ruolo, il deputato europeo deve fare il deputato europeo, l'assessore regionale, l'assessore regionale, tutti insieme si deve fare appello alla unità del centrodestra e soprattutto in città e in questo bilancio ci sono delle cose che si possono fare e altre no. Quello che è possibile fare lo si farà per il bene dei nostri cittadini, ma noi dobbiamo stare insieme tutti uniti a chiedere al governo più risorse, perché quella è l'unica risposta. Sempre politica le elezioni, in realtà perché le date sono certe, si andrà alle urne il 20 e 21 settembre per le elezioni regionali, ma anche per il referendum sulla riduzione dei parlamentari e per le elezioni suppletive nei collegi di Veneto e Sardegna. Nei prossimi giorni il governatore Luca Zaia firmerà il decreto che dà il via libera alle elezioni regionali per il 20 e 21 settembre, come deciso dal governo. Tuttavia il commento di Zaia se avessero accolto la proposta dei presidenti delle regioni si sarebbe già votato in un periodo sicuro dal punto di vista sanitario. Finalmente hanno deciso la data del voto, potevamo già votare in questo periodo, perché insomma tutto sommato la situazione adesso è abbastanza tranquilla. Sono contento che finalmente si sia fissata la data delle elezioni e spero che sia una campagna elettorale che ci consenta di parlare di contenuti e non soltanto di divisioni. Per la campagna elettorale ci saranno poco più di due mesi e Zaia adotterà il provvedimento che fissa le elezioni almeno 50 giorni prima dell'apertura delle urne. Una campagna elettorale strana, con distanziamento e divieto di assembramenti. Penso che il Veneto abbia il diritto di vivere una campagna elettorale vera fra Zaia, Lorenzoni e tutti gli altri candidati che si sono già messi in campo. Penso che sia necessario perché l'abbiamo detto tante volte in questi mesi in cui ovviamente non si è potuto andare a votare, la democrazia è fondamentale, quindi la possibilità per i cittadini di scegliere con il loro voto. Sarà una campagna molto particolare, uno perché la facciamo durante i mesi caldi dell'estate, quindi voglio dire sarà tutto più difficile anche proprio per la questione del Covid, quindi non sarà la classica campagna tradizionale, ma sarà una campagna fatta ovviamente di contatti ristretti, di conoscenze, quindi una campagna molto molto delicata. Ora fare le liste e scegliere i candidati sarà per tutti la priorità. La Lega e lo stesso governatore Zaia personalmente sono i grandi favoriti, ma la campagna elettorale, dicono, non sarà in discesa. Assolutamente no, la campagna elettorale va sempre combattuta sul territorio con la concretezza, l'umiltà e la sostanza della buona amministrazione fatta giorno dopo giorno, quindi nulla è regalato. E sulla data elettorale, quindi 20 e 21 settembre, finalmente decisa, abbiamo sentito anche i vicentini che sembrano perplessi e disillusi. Siamo un po' in difficoltà, secondo me, perché non sappiamo più chi votare, a dire la verità. Ma è il navo della regione Veneto? Sì, però c'è da pensarci, c'è da pensarci, secondo me. Secondo lei la data, il 20 e il 21 va bene? Non lo so, perché con tutte queste situazioni del coronavirus non sappiamo, speriamo bene, dai, vediamo positivo. E' giusto che anche lui abbia la sua riconferma, qualcuno la strumentalizza dicendo che è stata una continua campagna elettorale, insomma non lo so, se volevamo finire come la Lombardia credo che sarebbe stato peggio. Vorrei che tutti andassi o non andassi a votare, ma lo facessi consapevolmente. Con questa ripresa abbiamo ripreso un po' tutti, però... L'ultimo suo pensiero è il voto? No, no, assolutissimamente no, un voto è fondamentale, è importantissimo, però non sono informata, quindi mi informerò così potrò andare a votare anch'io e di esprimere il mio parere. Va bene la data del 20 e 21? Ma secondo me sì, però io penso che non tutte votano, sarà perché non ci credono tanto alla politica adesso. Nei tuoi tempi consentiti, no, anche dal Covid, sì. Ma lei avrà paura di andare a votare il 20 e 21, più a settembre, ma ne con il rischio del ritorno del Covid? No, non penso, non c'è nessuna paura. Si spera che non ritorne comunque. Socializzata? Vedremo. Non la vedo convinta. Non è convinta di andare a votare o non è convinta di andare a votare? Non è convinta di andare a votare e andrò. Guardi, mi dà un consiglio. Io sono di bocca buona, destra, sinistra, centro, va bene tutto. Un partito di persone oneste e competenti, cosa potrei votare? Lo dovrà decidere il 20 e 21? Sì, nel frattempo come faccio a decidere? Quello che dicono prima corrisponde a quello che fanno dopo. Arrivederci. Ora la questione rientro a scuola a settembre. Oltre alle problematiche di spazi e distanze sociali, anche il servizio pasti, mensa, si adegua alle necessità. Ho preso il vassoio, mi sono avvicinata, qui c'è una barriera di sicurezza. È la modalità self-service su ruote, legame, fresco, caldo, quella pre-covid con la fornitura di pasti in multiporzione con l'arrivo al plesso scolastico di un carrello riscaldato contenente il cibo che una detta provvede a porzionare i bambini su un apposito vassoio sagomato, con tanto di posate confezionate, bottiglietta d'acqua e pane. Altra soluzione sono invece i piatti in monoporzione termosigillati. Ogni bambino riceverà una vaschetta termosigillata per il primo e una per il secondo, per il contorno, a seconda del menù previsto. La detta poi avrà cura anche di completare il vassoio con le posate, la frutta, il dessert, il pane, a seconda di quello che è previsto nel menù giornaliero. Altra opzione sono i pasti in cook and chill con vassoi personalizzati per ciascun bambino che partono dai centri cottura con pasti in legame refrigerato e la cui rigenerazione viene programmata a ridosso della consumazione in modo che il pasto risulti caldo, igienicamente sicuro e più buono. Insomma, la ristorazione scolastica si adegua alle disposizioni anti-covid. Sicurezza, distanziamento e qualità del pasto, da settembre con il nuovo anno scolastico saranno le parole d'ordine. Alle scuole la scelta di quale sistema utilizzare. I parametri sono le tipologie di scuole, il numero degli alunni che devono mangiare è diverso per mangiare 500 bambini rispetto a 100. L'ultima parola io la lascio poi all'organizzazione alle scuole, insieme alle ditte, in modo che non ci sia nessuna situazione di complicazione o di scarsa sicurezza, ma che il servizio mensa sia garantito a tutti. A livello di costo per le famiglie cambierà qualcosa? Non cambia assolutamente niente. Sempre riguardo alla scuola, a breve arriveranno anche i fondi destinati all'edilizia scolastica. Alla provincia di Vicenza si sta preparando per impiegarli. Vediamo come. Alla provincia di Vicenza sono stati, diciamo così, prenotati 1.700.000 euro, quindi è una somma ingente. Una somma ingente appunto, ma quali sono stati i criteri con cui è stato definito il fondo e soprattutto come verranno spesi nei singoli istituti? È stata messa a disposizione sulla base del numero degli iscritti alle scuole superiori della provincia e poi la provincia inizierà un lavoro di concertazione con i dirigenti scolastici per l'inserimento delle singole schede che riguardano gli edifici scolastici e quindi con le proposte progettuali. Un grosso lavoro di concertazione con i presidi, tra esigenze diverse, come diverse sono le scuole. Cosa invece accomuna i singoli istituti? Quali linee di indirizzo sono già state impartite? Allora io mi immagino che soprattutto le scuole punteranno sull'utilizzo di più ingressi possibili e separati in modo tale da dividere il numero di studenti che entrano contemporaneamente nell'edificio perché è uno dei momenti in cui ci sono i maggiori assembramenti. Non soltanto parleremo di edilizia leggera, ma parliamo anche di fornitura di arredi. Quindi anche su questo punteremo per aiutare le scuole ad utilizzare meglio gli spazi che già ci sono. Noi abbiamo dato come indirizzo comunque di cercare di contenere all'interno degli istituti stessi senza andare a chiedere spazi esterni ad altri edifici che non siano attualmente ad uso scolastico. Anche perché ovviamente anche questo comunque sarebbe un costo per la provincia. Per cui questa intanto è la linea di indirizzo e poi ovviamente valuteremo se ci sono delle criticità particolari. Ma questa è una linea fondamentale su cui insistiamo. E ora vi invitiamo a segnalarci i problemi che avete, anche quelli che incontrate davanti a casa vostra perché poi noi li porteremo al sindaco. Potete scriverci o una mail a vicenzachiocciolareteveneta.it oppure un messaggio al 345 855 9664 ancora visitando la pagina Gli Amici di Rete Veneta a Vicenza su Facebook. La cronaca ora va a falciare l'erba del campo e sorpresa trova una piccola coltivazione di marijuana. Vicenza va a tagliare l'erba del campo e scopre una coltivazione di marijuana. Una cinquantina di piantine alte 60 centimetri erano piantate a bordo campo lungo l'argine del Bacchiglioni in via Riviera Berica. Il proprietario del campo alla scoperta ha avvisato la polizia che giunta sul posto ha provveduto ad estirpare le piante e a sequestrarle. piantine che non sarebbero state seminate sul posto come spesso avviene fatto ma probabilmente sono state trappiantate da dei vasi. Ancora cronaca con alcune notizie che arrivano dalla provincia. Due ville, allarme incendio lungo l'A31 poco prima del casello autostradale in direzione nord per un incendio sterpaglie che si è sviluppato ai margini della corsia di emergenza. L'ambito anche un furgone incidentato. Sul posto i pompieri arrivati da Vicenza con un'autopompa e un modulante incendio boschivo che hanno messo in sicurezza il mezzo è iniziato lo spegnimento delle fiamme evitando l'estensione del fuoco a un attiguo campo di mais. Interessati dalle fiamme oltre 200 metri lineari di sterpaglia per una larghezza di circa 5 metri. Montorso Vicentino infortunio sul lavoro. Operaio è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza con ustioni al braccio e alla nuca. L'uomo si sarebbe ustionato mentre in fonderia era impegnato in un processo di produzione industriale. Del liquido incandescente sarebbe schizzato fuori mentre era in corso. Il procedimento di fusione avrebbe colpito l'uomo in diverse parti del corpo. L'Onigo ci sarebbe anche un cittadino del paese del Basso Vicentino, nativo di Cutro, tra i 33 arrestati nell'operazione Tauros dei Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Venezia, su richiesta della DDA contro le infiltrazioni mafiose sul territorio veneto. Una struttura criminale con diretto collegamento con drangheta calabrese, intimidazioni, estorsioni, usura, riciclaggio e un controllo di attività economiche in vari settori fino al traffico di droga. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con Focus alle 21.15, il programma di approfondimento condotto dal nostro direttore Luigi Bacialli che avrà come ospiti Sergio Berlato, Leopoldo Bottero, Vivian Moro, Pietrangelo Pettenò, Luciano Sandonà e Deborah Varaskin, appuntamento alle 21.15 dunque con Focus. È tutto per l'informazione di Vicenza, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci, buonasera. Nuovo Renault Captur, scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid, scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene. Bentrovati al meteo, estate un po' sotto tono, con qualche temporale e senza caldo intenso. Il dettaglio di giovedì 16 luglio. Sul Veneto prevale il bel tempo, sarà soleggiato in pianura verso la costa, qualche addensamento in più in montagna e qui nel pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi degli acquazzoni in estensione con il passare delle ore anche alle aree limitrofe. Temperature gradevoli, minime fino a 18 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra i 23 e i 30 gradi. Andiamo ora a vedere la situazione a Vicenza, in città ma anche in provincia. Il tempo sarà sostanzialmente stabile e anche ampiamente soleggiato. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Tuttavia nel pomeriggio non si esclude qualche occasionale piovasco. Dal Meteo di Rette Veneta per ora è tutto. Arrivederci. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene.